Io ho sempre, diciamo, rispinto quella, diciamo, teoria politica che il nemico del mio nemico è quello mio. E io per questo motivo, negli ultimi tempi, ho sempre deciso che bisogna chiedere le verità di questa città, che certamente nessuno si può fare palladino a un certo punto, all'improvviso della legalità e della nazionale. E io faccio appello ai cittadini che hanno vissuto la campagna elettorale, dove il Partito Democratico era parte dei grandi di questa campagna elettorale. Voi oggi parlate, Casino, il Sessore Casino, che è il mare di questa città, di tutti i 20 anni, ha fatto tutte le scelte, tutte le precedenti politiche, e la perciò a fare il rischio, è il rischio, è il rischio, è il rischio, è il rischio. Sta il rischio, è il rischio, è il rischio, è il rischio. Allora, devo prendere, sono saldati. E oggi il Partito Democratico viene a dire che Casino è il mare della città. e mi attengo a te, quando avete fatto l'amministrazione, dove l'avate? quando avete preso le cariche istituzionali, dove l'avate? l'attensore Cassino è la parte integrante di qualcuna che poi avete nominato quindi sicuramente oggi l'unico a essere alternativi, questa è il Stato, sicuramente è il Partito Democratico che ha l'improvviso di speglia e dice noi, ovviamente ci siamo accorti che c'è qualcosa di immorato perché la domanda che la città dovrebbe fare è che fate il programma che voi avverate insieme quale era l'idea della città che aveva usato la paglia del palco? e non quella di confrontare una posizione di gente che aveva idee e promosse per questa città AS списare gli scissi слов, diversi, denial e power per questa città e ultima giornata io voglio rendere un compotto che in quanto riguarda leравi che noi un programma comune ci troviamo, chi intende a me perché è dispostato da quel programma con il governo del Ciro. Le faccio notare che il Partito di Unione Europea si è opposto all'uomo che oggi è stato presente così, si è opposto con la media chiara, che lei riporterà e si leva dai banchi a questa ragione del governo del Ciro. Noi abbiamo detto affermare alcune cose che abbiamo protestato, che sono le stesse che questa amministrazione ha ridenuto un futuro lì e il governo che hanno quella battuta tra il Partito Democratico, che per poi aveva la necessità di vivere in breve distanza da queste amministrazioni. Ma vedete, io mi faccio non saperemo cosa. Sarebbe riduttivo se noi volessimo ritenere che la colpa sia di un uomo. Sarebbe riduttivo pensare? E non è mia natura. Io ho scritto un articolo uno degli unici, io ho scritto dove chieste il titolo che aveva fatto bene. Allora eravamo amici. Castillo, il male si è nata di un uomo. Il male si è nata di un uomo. Dove chieste il titolo che ha fatto. Ma c'è il tempo, c'è il tempo. Tra virutare il demotino, io faccio realizzare lo datio. È un uomo. Adattare il gestione che sollevava per me, oggi, consigliere chiudice. E quindi, andrino a dare la possibilità di riuscire. A vero sarebbe stato che io ci sono preoccupato e io non voglio dare il progetto che bello che è stato ottenuto, finalizzato a qualche ricerca, quindi nelle quattro i quali il Partito Democratico ha scelto di stare a un'altra posizione. E dicevo, e questo è quello che ho fatto a dire, perché lui è da poco, è comandato, è comandato, è comandato, perché è insufficiente una cosa a cuore. Non nemmeno, non nemmeno, non nemmeno, torna a dire, è un sistema, è un sistema che mi ha fatto rilevare in questo Consiglio Comunale, un trascendore, mancava, un internazionale, deve consentirà di un tempo, l'ultima cosa, mancava, un internazionale mi porterà di un assoluto di voler anche con una data, ci consentono poi, tra la vita, dove lui che è più che andava, non si porterà, non si porterà, non si porterà, non si porterà da una fede elettrica, crescita, 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 e noi ho risentito le voci, il ferro della città, che si sentivo a loro, di questo io mi mi preoccuperei di più, così è, più che il comportamento possibile, ma è iniziato nel merito, perché voi ci sono consiglieri che ci fanno a pelle, agnosa, sul, non solo o se parli della posizione flash, ma non andate, flash, posizione, flash, di parlare di questo in partito di un altro, guardate, sul tema, pone, al di là delle menze, guarda, il senatore, poi, tra l'altro, li vedo anche, come si stanno a passare, lei ha fatto a pelle, io l'ho sentito, in questa amministrazione, in questo bagno del Consiglio, una capacità di poter intrattenere, con le stazioni politiche, sono di altissimo spesso, rispetto alla minorità di chi dovete fare strida, e di poco spesso, scrivete questo, lo sentite con carri senso, perché mi hai fatto su, ma lei, Romano ci dice, che a lei, l'età, l'azziata, mi induce a fare dei ragionamenti di coesione, di ragionamenti, affinché non ci sia un atto di castello, ma un atto di amministrazione addirittura con la dignità, e questo è un senatore che mi ha più interessato, quando facciamo, fa lo stesso, ovviamente contiene, ma mi tengo, per esempio, io ho ascoltato, con il verificio silenzio che le metta, lo presento anche da lei, ovviamente, perché non vengono a dire cose meno intelligenti che si stanno facendo. E' chiaro che la benessa, che è una benessa politica, adesso non ci sono dei contenuti sbagliati, e quindi, muoviamoci le legittime chimiche, diciamo anche, però, visto che noi, volviamo rispondere, non lo sapevamo, sto a lei, direi che l'azzo non è che non mi scrive intervento, come tutti gli uomini politici di grande, adesso lo non lo sapevamo, lei si parla brava, ecco le due, vedete, teniamo un po' così, poi c'è altra materia che ci scrivono le caratteristiche. E' chiaro che, come detto, noi facciamo quindi una borsa nella quale diciamo, guarda di vita così. Tendiamoci, carattacolo, e cosa dici questo non è un'altra materia di vita così. Utiliziamo la tecnologia di grande, che è una tecnologia di grande, che è una tecnologia di grande, trasparente, qual è un massimo un masso, che come scrive a voi consigliere lei, dovrebbe essere la capacità di pianistra a controllare che quel massimo di basso sia a punto di strane situazioni o invece che semplicemente quella vicissità di critiche riduce le imprese a ridurre i costi full più lavorare, perché anche questo è un'attività rispetto all'attività. Ora, ci si vuole un problema tecnico, ma noi gli aspetto da lei, dal suo dirigente, dai certi soldi, non dico la fine, non capisce la fine, ma dico dal suo dirigente, gli aspetto che ci sia un problema della tecnica, e allora vedete che ci si viva qua, e alla mattina di voi. A nostro avviso questo tipo di evitamento non può essere oggetto così evitato da lei. processo di nuovo. E' un po' di paura. E' un po' di paura. E' un po' di paura. E' un po' di paura e realtà, in questo modo si viva qua, e la macchina di loro che ammiglia di mezzo, anche perché mi faccia dalla base a lei, lui. E' un po' di paura. E' un po' di paura. E' un po' di paura. Un po' di paura, e' un po' di paura. E' un po' di paura. Ma adesso, allora, e allora, stavo dicendo, mi faccia avere un po' più a te di più. Allora, tutti dicete, potete di nuovo, potete voi in questa serie, potete vedere, e ci cari amici del Partito Democratico, non è questa la serie usata per presentare il Presidente Italia. E quindi, Partito Democratico, potete, responsabilmente, trasformare un atto di diritto e che non sono pure mentale. E un atto di diritto. Ma se te, cari amici, quale ho sentito il fatto di... E quindi, l'indica che ha priorizzato a me, gli indica, gli indica, gli indica a me, dopo averci fatto una fegna, non l'avete avessi ho sentito, e non l'avete. Dopo averci dato una lezio magistralis, così mi com'è, e la parte dei suoi appuntati, dei attanti, l'indica di appuntati. Cioè, guardi, ma puttano gli appuntati che ha giustato questo, in questo periodo. Ma appuntati bene, sono entrati nell'epoca post-guerra, diciamo. Non gli appuntati oggi che sono ladeati. Ma appuntati per vedere la post-guerra, che si può vivere, ma riusciano nella tua parte. E noi, questa persona, dopo averci, si assumeva quella cosa. Quindi, dicevo, lei, quindi che si incontratisce in maniera violenta, rispetto a quel gesto che io, come una lezione magistrale, che io assumo da giovane, che non è, non più rispetto alla città, ma da giovane assumo come una lezione magistrale, mi attenzimo così. E allora mi comprendo. E allora mi comprendo. E al di là di lo scopo del consiglio di oggi. Quello non deve riscrivere. Quello non deve riscrivere. Però, dico, al di là del suo. Io mi chiederei la sua persona, più giorniata, utilizzando l'occhio un po' a tempo lungo, se non dovessi riconoscere, con il mio amico. Di, ragazzi, immaginate, o una serenità, o una sospensione della sua, per raggiungere, in pochi minuti, per raggiungere su come voi non lanci. Il capo. O, via, che è necessario di darci uno strumento che abbia, diciamo, un senso politico, che è risponente all'efficienza che ne sta ponendo una forza eretta e questo è il punto che lei non torna, non lo finirà mai, perché lei è un uomo. Invecemente, con la sua coalizione sostenendo la sua persona, perché per tre anni lei, come me, da questi parti, ha contestato l'operato disdicevole, illecito e illecito del uomo, se ne ha fatto questo. La ringrazio. No, Dio, Dio ringrazio lei.